Non voglio lasciare ai nostri figli un continente pronto a entrare nella terza guerra mondiale. Si può parlare serenamente di guerra, di armi, di missili, di bombe, di stragi, di soldati, ma non si può parlare di famiglia. Io penso che in questo momento lasciar solo intravedere come possibilità che soldati francesi, soldati italiani, soldati austriaci, soldati fiamminghi, soldati portoghesi possano uscire dal proprio paese per andare a fare la guerra sia estremamente pericoloso. Occorre misura, occorre equilibrio. Io penso che il presidente Macron con le sue parole rappresenti un pericolo per il nostro paese e per il nostro continente. Il problema non sono la mamma e il papà, ma il problema sono i guerra fondai come Macron che parlano di guerra. Io non voglio lasciare ai nostri figli un continente pronto a entrare nella terza guerra mondiale. Io voglio che la prossima Europa torni a essere costruttrice di pace, di pace, di benessere.